allora salve a tutti sono jonathan salvietti e sono ricercatore presso il dipartimento di ingegneria dell'informazione scienze matematiche dell'università degli studi di siena e nei prossimi minuti vorrei parlare con voi di quella che viene chiamata human centered robotics ovvero tutta quella parte della robotica che si occupa dei robot che sono a stretto contatto con l'uomo partiamo iniziando a vedere che cos'è un robot allora i robot sono già diciamo ampiamente diffusi tra noi e ormai entrano a far parte del nostro immaginario comune ma ne esistono diversi tipi ci sono dei robot che hanno delle sembianze simili all'uomo ci sono dei robot che hanno avuto un grande successo a livello industriale come ad esempio le braccia robotiche ci sono adesso tutta una serie di robot che tentano di interagire con gli oggetti con i quali interagiamo noi e quindi hanno bisogno di mani gli strumenti che riescono a effettuare manipolazioni ormai è abbastanza comune vedere dei cosiddetti robot mobili quindi robot su gomma che o sul cingolo o su gambe che riescono a trasportare dei carichi o che ad esempio riescono a il classico esempio del del taglierba riescono comunque a coprire le superfici molto importanti fino ad arrivare al classico esempio del drone o del quadrotolo in questo caso che non sono altro che la rappresentazione più robotica degli aerei e comunque di macchine che riescono a volare in generale un robot è un sistema artificiale che esegue una serie di azioni che sono il risultato di una serie di comandi quindi noi abbiamo dei comandi che sono diciamo un listato una lista di un programma che viene eseguito e attraverso l'esecuzione di questi comandi i robot riescono a fare delle cose più o meno sofisticate vi faccio vedere ad esempio ora qui un video di un robot che senza diciamo quella che viene chiamata intelligenza artificiale ovvero senza sofisticati algoritmi di decisione ma solamente eseguendo una serie di comandi e eseguendo una serie di controlli che in qualche modo hanno come ingresso quello che viene percepito da una serie di sensori vi spiegherò più avanti l'idea del sensore riesce a fare delle cose del genere questo è un robot dell'azienda boston dynamics americana che riesce a fare parkour e quindi vedete che l'agilità di questo robot è veramente impressionante e bravo il nostro robot allora quindi in generale che cos'è un robot vedete tutte le cose che in qualche modo azionano il robot che quindi lo mettono in movimento vengono chiamati attuatori quello che invece gli strumenti che vengono utilizzati per percepire l'ambiente o percepire il movimento le azioni la temperatura tutto quello che diciamo il nostro corpo è abituato a percepire attraverso i nostri sensori ad esempio la pelle gli occhi il naso tutta questa cosa viene percepita dal robot attraverso appunto vi dicevo i sensori diciamo questi sensori vengono poi gli ingressi di questi sensori vengono dati a un controllore e questo controllore è quello che decide come poi muovere gli attuatori quindi diciamo che cosa fa la robotica la robotica in qualche modo studia come connettere in modo intelligente la parte di percezione e la parte di azione diciamo la prima parte a partire dagli anni 50 di diffusione della robotica è stata sicuramente la robotica cosiddetta industriale quindi la robotica si è diffusa all'inizio all'interno delle aziende questo perché questo perché fondamentalmente all'interno delle aziende è più semplice in qualche modo strutturare l'ambiente ovvero mettere delle gabbie oppure creare degli spazi con delle telecamere con dei sensori appositi all'interno dei quali i robot si possono muovere con velocità avete visto qui ad esempio un robot che viene usato dalla bmw per l'assemblamento di motori insomma è possibile strutturare questi ambienti in modo che i robot si possano muovere con tranquillità senza diciamo poter rappresentare un pericolo per un operatore eventualmente che nella loro area di azione con il passare del tempo si è capito che era importante comunque costruire dei processi dove è possibile fare interagire un robot con una persona perché ci sono alcuni compiti che comunque ancora sono troppo complessi per essere eseguiti con un robot e adesso ad esempio un passo che sta facendo è quello di creare queste specie di celle ibride dove il robot quando è nell'area diciamo a contatto con l'uomo si muove con una certa velocità ridotta e con dei movimenti che sono abbastanza intuibili e percepibili nel momento in cui poi il robot esce dalla zona di interazione con con l'uomo vedete che adesso sta uscendo da questa cella dove può esserci l'uomo non appena il robot è fuori e quindi è una condizione di sicurezza per l'operatore il robot si muove alla sua velocità massima che riesce ad eseguire e in questo caso diciamo si permette a processo produttivo di poter condividere la presenza dell'uomo con la presenza del robot alla sua massima velocità ovviamente dopo questa grande diffusione industriale dell'inizio della robotica si è iniziato a pensare a robot che possano essere anche a servizio dell'uomo ma molto in prossimità dell'uomo e quindi è nata quella che viene detta service robotics ovvero una robotica di servizio che può essere utilizzata o appunto quando viene richiesta una grande una grande precisione oppure in molti casi quando si richiedono delle operazioni in ambienti che sono rischiosi per l'uomo ad esempio in profondità come il robot ocean one vedete qui in alto a sinistra oppure missioni spaziali vedete il robot il rover mars che scusate rover curiosity che è andato su marte ovviamente condizioni estreme dove assenza di ossigeno vedete anche l'altro robot della nasa che invece è stato in qualche modo costruito per poter andare all'interno di della stazione della stazione spaziale ma diciamo questi servi questi robot sono anche usati quando si ha bisogno di spazi confinati e molto stretti e un classico esempio di questo è ad esempio in ambito chirurgico ormai il da vinci il robot da vinci che vedete qui in basso sinistra è uno standard classico diciamo di per le operazioni ce n'abbiamo uno anche all'ospedale di siena ce n'è uno all'ospedale di arezzo è ormai diciamo un'alternativa se non il modo principale per cui vengono eseguiti tutta una serie di interventi con il beneficio di essere molto meno invasivi sul paziente quindi ferite più più piccoli possibilità di lesioni molto più limitata quindi tutta una serie di benefici che viene portato dal fatto che comunque il robot riesce a muoversi in spazi confinati con più si dice destrezza con più capacità rispetto a quello che può fare la mano del chirurgo ovviamente un altro aspetto che adesso è molto studiato e molto di moda diciamo è quello della guida autonoma quindi di prevedere e dei veicoli che riescano a muoversi da soli all'interno del traffico per per rivoluzionare in qualche modo tutto quello che è il settore dei trasporti ovviamente noi siamo siamo costantemente bombardati robot tipicamente i robot diciamo solo ultimamente stanno diventando buoni nei film diciamo la mia generazione è cresciuta con robot molto più cattivi che tipicamente arrivavano e distruggevano tutto e questo ovviamente comunque tuttora tuttora ha un'influenza sulla sulla percezione della robotica nella società ovviamente a questo si unisce anche tutta una campagna mediatica che c'è in questi in questi anni con il robot che ti ruba il lavoro e diciamo c'è un po un'idea di questa robotica che potrebbe non tanto aiutare ma in qualche modo sostituire in realtà però chi lavora sulla robotica sa due cose principali ci sono molte funzioni che il robot ancora non riesce a fare e soprattutto il livello di della robotica ancora non è così avanzato come quello che si pensa vi faccio vedere qui un video che è abbastanza divertente che rappresenta rappresenta lo stato attuale diciamo dei robot questa è stata una una competizione ormai di cinque anni fa negli Stati Uniti in cui tutti i più grandi centri mondiali si sono sfidati su delle competizioni fatte per robot ovvero i robot dovevano muovere in autonomia dovevano eseguire una serie di compiti aprire delle porte ruotare delle valvole diciamo lo scenario era quella di una centrale nucleare all'interno della quale robot dovevano andare e come si vede ancora diciamo c'è della c'è molta strada da fare vedete che qui basta magari un piccolo errore in quella in quello schema che vi ho fatto vedere prima di percezione controllo percezione azione controllo e ad esempio il robot non trova la valvola pensa di girarla e cade per terra quindi diciamo questo invece ha deciso di fare così di cadere questo lo stesso ovvero che cosa che cosa voglio dirvi voglio dirvi che in realtà ancora pensare a questi robot che è in maniera autonoma vanno prendono sostituiscono completamente le funzioni dell'uomo è una cosa diciamo che possiamo stare ben tranquilli che siamo abbastanza lontani allora la cosa che però è molto interessante e che anche diciamo tutta la parte di diciamo di film sta iniziando a capire è che è importante che questi robot se li vogliamo veramente a servizio dell'uomo e li vogliamo veramente utili devono uscire dalle gabbie delle aziende delle fabbriche e devono entrare e quindi devono entrare nella vita diciamo di tutti i giorni e per entrare nella vita tutti i giorni devono avere gli strumenti per interagire con le persone con gli uomini quindi diciamo si parte ovviamente dalle basi delle leggi di asile famose leggi di asimo ovvero quelle leggi che ci dicono che i robot non dovranno mai essere pericolosi sostanzialmente per l'uomo ma l'applicazione di queste leggi prevede tutta una serie di accorgimenti nel della progettazione nella costruzione dei robot che permettano che effettivamente questa interazione sia veramente sicura e veramente efficace quando si parla con l'uomo quando si interagisce con l'uomo quindi quello che si parla e quello che si dice di una interazione soft per chi di voi ha visto il film big hero 6 diciamo questi robot non sono più delle macchine metalliche pesanti ma sono viste come ad esempio IMAX qui è in realtà un robot morbido fatto di materiali che possono essere piacevoli anche al tatto e che garantisce un'interazione molto sicura diciamo quello che facciamo noi nel nostro laboratorio qui vi faccio vedere adesso un breve video è studiare come questi robot possono interagire con noi e sostanzialmente la maggior parte delle interazioni che facciamo noi avviene attraverso le mani e quindi diciamo quello che studiamo noi fondamentalmente è tutto quello che è che ruota intorno alla mano quindi sia dal punto di vista di azione della mano come controllo la mano sia dal punto di vista di percezione quindi di tatto come io percepisco il mondo attraverso le mani se vi faccio vedere un breve video delle nostre delle nostre attività e vedete si parla di human centered robotics quindi estensione del tatto estensione del movimento silslab è il nome del nostro laboratorio questo è un esempio di teleoperazione questo è un esempio di di trasmissione del tatto a distanza alcune di queste poi le vedremo nel dettaglio ancora un esempio di teleoperazione teleoperazione in ambienti virtuali robot utilizzati per la trasmissione del tatto ancora una volta qui ad esempio un esempio in cui si può trasmettere il tocco del piano a un pubblico che sta guardando un concerto oppure come si possono registrare e poi riprodurre delle sensazioni tattili attraverso della specie di microfoni tattili in realtà si può anche ad esempio acquisire del del degli esami medici e riproporli poi in realtà virtuale attraverso che permettendo anche di toccare ovviamente applicazioni alla chirurgia fino a robotica assistiva come il caso del sesto dito dove funzioni della mano che sono state perdute a causa ad esempio di un ictus vengono recuperate attraverso un dito robotico oppure applicazioni dove si può guidare a distanza persone con disabilità visive adesso andremo nel dettaglio di alcune di queste applicazioni vi farò vedere qui sostanzialmente vedremo che cos'è l'aptica cosa cosa sono che cos'è un'interazione uomo robot le mani robotiche e la robotica cosiddetta indossabile vedete qui più o meno ci sono rappresentati tutti questi ambiti che sono quelli che studiamo noi poi al dipartimento di ingegneria di siena in particolare al sierc lab che siena robotics and systems lab di siena sempre e partendo dall'aptica l'aptica è l'esempio più classico di aptix che probabilmente ormai è nelle mani di tutti è l'introduzione negli smartphone di ultima generazione di un feedback aptico ovvero di una vibrazione quando viene eseguita una certa operazione quindi diciamo questa è ormai nelle mani di tutti ma quello che in realtà a livello di ricerca si fa con questa aptica è quello di cercare di trasmettere il senso del tatto o di riprodurre il senso del tatto diciamo i primi sensi che sono stati in qualche modo digitalizzati è stato il senso dell'udito quindi con l'idea di registrare e riprodurre suoni ovviamente la vista con l'avvento della della televisione e adesso diciamo quello su cui si sta lavorando è quello di qualche modo registrare e riprodurre anche il senso del tatto e l'aptica è quella scienza quella parte della robotica che si prefigge di riuscire a in qualche modo riprodurre il senso del tatto attraverso una serie di dispositivi che possono essere semplici in qualche modo come il motorino che genera una vibrazione all'interno del vostro smartphone oppure più complessi come ad esempio robot che vi farò vedere a breve ovviamente il tatto ha un'importanza veramente fondamentale in tutte le nostre interazioni sociali siamo in un tempo di lockdown siamo in un tempo in cui di distanziamento sociale quindi è semplice per tutti noi rendersi conto di quanto ci manca sulla parte affettiva il tatto quanto ci manca poter toccare abbracciare una persona e quindi diciamo è semplice immaginarsi tutta la parte che riguarda l'affetto ma in realtà il tatto ha un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda l'eseguire delle reazioni questo è un video ormai famosissimo di un neuroscienziato svedese Johansson che fa vedere sostanzialmente che anestetizzando la pelle di una persona questa ragazza ha anestetizzato soltanto la parte percettiva tattile delle mani non riesce neanche o comunque riesce con molta difficoltà a prendere degli oggetti all'interno all'interno di un barattolo questo perché perché mancando la percezione tattile dell'oggetto anche la parte motoria risulta molto molto complicata ok quindi il tatto ha sicuramente un ruolo fondamentale nella parte affettiva ma anche una parte molto importante per quello che riguarda poi l'esecuzione di un movimento quindi diciamo in robotica sono anali tutta una serie di applicazioni dove si cerca di riprodurre questo senso del tatto vedete ad esempio se io tocco nella foto di sinistra tocco un oggetto o la percezione di questo oggetto perché semplicemente e quell'oggetto riproduce sulla mia mano una forza uguale e contraria di senso diverso rispetto a quella che io applico sull'oggetto ora se voi immaginate di rimuovere quell'oggetto e mettere un robot che riesce a riprodurre esattamente la stessa forza dal punto di vista tattile voi avete la stessa percezione di interazione con l'oggetto che avreste toccando l'oggetto vero quindi quel robot che vedete lì nero sulla foto di destra non è altro che un robot che è utilizzato per riprodurre le forze di interazione che si avrebbero con oggetti veri ora se immaginate che ad esempio quella palla sia un oggetto virtuale ecco che capite che è possibile interagire quindi avere la sensazione di toccare anche oggetti che sono in una realtà virtuale o oggetti che sono ad esempio distanti da noi e quindi riesco a percepirli a distanza un esempio è quello ad esempio delle applicazioni chirurgiche in questo caso un robot come quello di prima è utilizzato dal chirurgo questo era un progetto europeo dove ci occupavamo sostanzialmente di operazioni chirurgiche sul cranio dove c'era una cannula che veniva inserita all'interno del cranio e il chirurgo aveva la percezione di quanto stava delle forze di interazione tra la cannula e in questo caso il cervello attraverso una cosiddetta interfaccia aptica poi diciamo abbiamo lavorato molto su un'evoluzione per passare dal da questo concetto di macchine che riproducono il tatto che comunque sono avete visto su un una scrivania e quindi hanno bisogno di essere si dice grounded ovvero di essere messe a terra per poter esercitare delle forze quello che stiamo studiando noi è come passare a delle versioni indossabili e portabili diciamo questa è stata un'evoluzione che anche per gli altri sensi il classico esempio è il sony walkman il walkman è stato il primo esempio per cui siamo passati da casse che erano grounded ovvero casse messe sul tavolo a casse che potevano di dimensioni ridotte poste vicino all'orecchio che potevano essere portate in giro quindi diciamo il nostro lavoro in un progetto che si è concluso l'anno scorso che noi abbiamo guidato come università di siena abbiamo studiato come generare delle sensazioni tattili con degli oggetti che poi possano essere portati in giro quindi vi dicevo appunto cercare di miniaturizzare e di rendere portabili delle tecnologie allora l'idea è quella di non andare più a interessare diciamo tutto il braccio nell'interazione ma andare a sfruttare solamente l'interazione con la pelle che vi ho fatto vedere prima è un aspetto molto importante durante la manipolazione e l'interazione tattile quindi qui vedete un dispositivo che può essere indossato è una specie di vitale con un piattello questo piattello si orienta in base alla direzione delle forze che noi vogliamo riprodurre sul dito e quello che si ha è una sensazione di interazione con degli oggetti ovviamente la sensazione che si ha è generata dal fatto che si deforma la pelle del polpastrello come se diciamo stessimo toccando una superficie quindi come se la deformazione del mio polpastrello fosse dovuta all'interazione con una superficie dell'oggetto con il quale voglio interagire questo concetto diciamo può essere utilizzato anche in ottica di trasmissione del tatto quindi mi posso immaginare di avere un ditale che invece registra le forze che io scambio durante l'interazione con ad esempio in questo caso con il tavolo poi ho un di tale da un'altra parte con questo piattellino che si orienta e quindi riesco a trasmettere anche a distanza ad esempio e questo con il ditale microfono diciamo potrebbe essere in giappone e io potrei sentire la consistenza del divano oppure di una stoffa oppure di un materiale che voglio acquistare magari negli Stati Uniti o comunque a distanza e su questo su questa idea di trasmissione del tatto ci stiamo lavorando molto perché ovviamente specialmente poi ora in questo momento di distanziamento sociale e ma soprattutto di impossibilità di recarci fisicamente sugli oggetti o comunque di limitazione di questo tutte le applicazioni di e-commerce ovviamente aggiungerebbero una dimensione in più all'esperienza all'interno di questi negozi virtuali c'è anche la possibilità e l'idea che si possano registrare in qualche modo queste interazioni tattili quindi l'esempio classico è magari accarezzo mia figlia all'interno in un determinato momento quindi oltre a registrare l'audio e il video magari a distanza di tempo vado anche a risentire le sensazioni tattili la consistenza che senti che che ho registrato magari nel passato oltre agli aspetti più diciamo affettivi c'è tutta la parte di di teleoperazione quindi avete visto voi ora sicuramente l'importanza di magari avere dei robot teleoperati perché ad esempio vanno nelle parti con i malati che potrebbero essere contagiosi ma diciamo la teleoperazione era nata all'inizio per andare ad esempio in ambienti confinati oppure in ambienti radioattivi o comunque ambienti dove la presenza dell'uomo non è non è possibile e quindi si possono spostare si possono spostare le persone si possono spostare si possono mandare i robot e questi robot possono essere controllate avete visto prima questa interazione veniva fatta senza la percezione tattile quindi vedete che dopo avete visto che dopo un po di operazioni non era più possibile tenere questo cilindro in mano invece in questo esempio dove viene viene utilizzato anche l'interfaccia aptica è possibile eseguire una serie di operazioni ovviamente quando si inizia a parlare di robotica indossabile è importante anche in qualche modo avere la percezione di dove è la nostra mano e quindi noi stiamo studiando tutta una serie di sistemi che ad esempio riescono ad utilizzare dei sensori e questi IMU sono i sensori che sostanzialmente all'interno del vostro smartphone vi permettono di ruotare lo schermo quando ruotate lo smartphone utilizzando queste specie di questi sensori è possibile ricostruire anche la posizione della mano e qui vedete ad esempio che è possibile ricostruire la posizione della nostra mano e ad esempio animare una mano virtuale che sta ad esempio questo qui è un framework per costruire dei videogiochi e è possibile utilizzare questi guanti per ricostruire la posizione della mano all'interno di un ambiente virtuale quindi è possibile iniziare a mettere insieme questa aptica indossabile con VR and AR che non sono altro che la virtual reality, la realtà virtuale e la realtà aumentata quindi tutte quelle applicazioni in cui su una scena ripresa vera vengono montate in maniera artificiale dei contenuti grafici quindi è possibile grazie ai nostri dispositivi interagire anche tattilmente con questi oggetti creati artificialmente dal computer quindi qui c'è un esempio dove si ha uno di questi visori per la realtà virtuale si ha una serie di dei nostri dispositivi indossati sul dito e quando io vado a toccare l'oggetto in realtà virtuale ho la sensazione sulle mie dita che sto effettivamente toccando questo oggetto e con un aumento dell'interazione che è molto significativo ovviamente poi tutte queste tecnologie si possono utilizzare anche per la cooperazione tra uomo e robot ad esempio questi dispositivi tattili possono essere utilizzati per la guida di persone ipovedenti possono essere utilizzate per aiutare le persone a uscire in situazioni di pericolo oppure in generale come supporto per persone con delle disabilità motori quindi è possibile ad esempio creare immaginarsi delle squadre composte da uomini e robot dove l'uomo e dove magari il robot conosce l'uscita o ha dei sensori che gli permettono di individuare l'uscita e trasmette attraverso dei segnali tattili quindi o delle vibrazioni su dei braccialetti o altri segnali sempre di tipo tattile riesce a guidare l'uomo ad esempio all'interno in un percorso per uscire da una situazione ad esempio dove c'è fumo oppure la persona che segue il robot magari è una persona ipovedente che usa il robot come una specie di guida quindi si possono indossare delle interfacce dei braccialetti vibranti il robot sa attraverso dei sensori dove sta andando l'uomo e quindi è possibile guidarlo ad esempio il caso più semplice il robot deve girare a sinistra viene mandato una vibrazione su un braccialetto indossato sul braccio sinistro dell'uomo e l'uomo inizia a ruotare quando ha raggiunto la curva che il robot ritiene soddisfacente si interrompe questa vibrazione e la persona continua a torna a camminare dritto e abbiamo fatto diversi studi e abbiamo visto che è possibile guidare lungo dei percorsi in maniera sicura alle persone in questo caso completamente bendate ovviamente poi eh questa cosa ha eh un possibile impatto molto importante su eh sulle persone che hanno delle difficoltà visive e in particolare ci siamo immaginati di poter creare un sistema di eh in qualche modo supporto alle ai non vedenti eh dove un operatore invece di doversi decare fisicamente sul posto per accompagnare una persona non vedente in un certo posto può in qualche modo guidarlo da da casa e lo può guidare grazie a questi braccialetti che danno la direzione grazie a una telecamera che viene indossata da dalla persona non vedente quindi qui vedete è possibile eh diciamo la parte di percezione eh prossimale quindi vicino alla persona viene fatta col bastone che è la parte diciamo che il sistema della del quale si fida diciamo la persona non vedente ma vedete che qui adesso l'operatore dà un segnale sulla tastiera di girare a sinistra il la persona guidata percepisce la vibrazione e sa che deve girare a sinistra quindi è possibile guidarla guidarli all'interno di un percorso urbano qui in questo caso eh social diri della fortezza a Siena ma insomma eh abbiamo fatto dei test anche sia in ambienti urbani sia all'aperto e questo diciamo ci permette eh di poter guidare in sicurezza eh e anche magari nel rispetto della privacy perché comunque poi eh all'interno di uno di un negozio magari eh lì la persona non vedente vuole staccare questo sistema e lo può fare in tranquillità e può riaggangiarsi nel momento in cui ha veramente necessità di essere di essere guidato questo è un video che abbiamo fatto all'interno della della notte dei ricercatori quindi a sempre a Siena e dove abbiamo eh fatto vedere l'esempio classico in cui eh questo è eh Massimo Vita che è tra l'altro il presidente dell'associazione eh dei non vedenti di Siena che è stato guidato da remoto e è stato fatto fare un giro eh per Siena e vedete che comunque lui riesce a ritornare eh da dove eravamo da dove eravamo partiti. Ok poi eh adesso che cosa diciamo tutte queste tecnologie di interazione eh le abbiamo anche applicate eh in contesti di robotica cosiddetta assistiva quindi eh ci siamo immaginati per esempio di poter aiutare delle persone che hanno difficoltà motore su una mano mettendogli una specie di dito aggiuntivo che li possa aiutare a effettuare delle prese e quindi a tornare a compiere delle eh operazioni di manuali. Quindi ci siamo ci siamo immaginati che cosa potremmo fare sia persone diciamo normalmente abili eh con la mano con la presenza di un dito eh di un altro di un sesto dito e quindi magari potremmo potremmo riuscire a fare eh delle operazioni che normalmente richiederebbero due mani magari con una singola mano ma soprattutto ci siamo concentrati sull'idea di poter compensare quindi di ripristinare delle funzioni della mano per persone ad esempio a seguito eh stroke sarebbe ictus a seguito di un ictus che hanno effettivamente eh perso l'uso in qualche modo o della mano. Quindi diciamo come eh in qualche modo la robotica sta aiutando persone che hanno perso completamente l'arto a seguito ad esempio di un'amputazione e quindi ci sono tantissime protesi tantissime ci sono un buon numero di protesi che vengono ormai eh vendute con delle capacità di presa importanti. Esiste tutto un mondo in cui si cerca eh di muovere la mano attraverso dei robot cosiddetti esoscheletri quindi una specie di delle strutture che vengono montate eh diciamo con una con una struttura meccanica simile a quella della mano che cercano di riaprire eh e di farti rifunzionare la mano ma ovviamente sono comunque per adesso ancora molto ingombranti. Eh la nostra idea invece è quella di utilizzare degli strumenti eh questo sesto dito quindi vedete eh questo è Alessandro un nostro ormai eh co-sviluppatore del sistema che ha avuto eh un ictus cinque anni fa a non riesce più a muovere la mano destra e quindi c'è tutta una serie di 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 compiti che lui non riesce più a fare i compiti bimanuali specialmente che con l'aiuto del nostro sesto dito riesce nuovamente a fare. Ad esempio per svitare la la moca può usare il sesto dito per tenere la base e con la mano eh diciamo che ancora riesce a muovere può eh svitare la caffettiera e preparare il caffè. Quindi diciamo in questo caso la robotica diventa robotica indossabile e oltre a diventare robotica indossabile diventa robotica assistiva nel senso che assiste delle operazioni di persone che hanno eh perso una mobilità eh dei loro arti quindi può essere utilizzato ad esempio per sbucciare una mela tutta una serie di compiti che per noi eh diciamo che per chi non ha difficoltà motorie sono banali ma per chi è ovviamente ha perso l'uso di una mano eh diventano veramente eh importanti. Ovviamente nel caso di eh persone che hanno avuto ictus non si può pensare alla sostituzione dell'arto con un altro un altro robotico eh perché ovviamente c'è ancora la mano lì e e quindi si ha bisogno di strutture eh di supporto che abbiamo chiamato extra finger nel senso di dita aggiuntive o mani aggiuntive che si possono utilizzare per recuperare appunto queste eh funzioni. È molto importante in questo caso come noi ci interfacciamo e quindi avete visto che eh Alessandro indossava un cappellino all'interno di quel cappellino sono contenuti degli elettrodi che in qualche che leggono l'attività del muscolo frontale quindi basta alzare le sopracciglia per eh alzo le sopracciglia una volta e eh comando la cesura del dito. Alzo le sopracciglia due volte e comando la la cesura scusate con una volta due volte comando l'apertura. Quindi è importante creare queste interfacce eh per l'utente semplificate e sfruttando parti del corpo che eh l'utente che in questo caso il paziente riesce a controllare in maniera eh robusta. Quindi ad esempio questo muscolo eh viene sempre eh controllato da persone che hanno avuto un ictus perché ha una doppia rappresentazione all'interno del nostro cervello e quindi qualsiasi parte emisfero venga colpito tipicamente l'ictus colpisce un solo emisfero quindi l'altra eh ci sarà sempre comunque modo di poter controllare questo muscolo ed è per questo che abbiamo creato questa interfaccia all'interno di un cappello. Poi si creano delle semplici leggi di controllo che eh vanno da che sostanzialmente ti permettono di eseguire una serie di azioni solamente con dei semplici comandi quindi le semplici alzate di sopracciglio in questo caso e in questo modo è possibile controllare eh movimenti complessi di questo eh di questo extra finger di questo dito aggiuntivo. Ovviamente queste interfacce si possono estendere e possono diventare anche delle cose più complesse. Questo ragazzo qui è Miai è un nostro dottorando e lui ha una una forma una malattia del sistema muscolare per cui è costretto a stare sulla sedia a rotelle e ha quindi abbiamo creato un'interfaccia per stare interno combinando quei sensori che abbiamo visto prima per il controllo della mano. Sono sempre quei sensori che ci fanno ruotare lo schermo del cellulare combinando quelli con il nostro eh sistema di elettrodi sul muscolo frontale è possibile ad esempio anche controllare movimenti complessi come quelli di un braccio robotico. Quindi ad esempio vedete lui riesce a muovere eh con movimenti della testa che vengono catturati da questi sensori nel cappellino riesce a muovere il robot e in questo caso utilizza i sensori della fronte sulla fronte per cambiare il tipo di controllo. Quindi può controllare ad esempio se muovere eh x y z diciamo eh la pinza del robot oppure se effettuare una rotazione della bottiglia eh quindi andare a controllare le rotazioni questa volta oppure se andare a controllare eh l'apertura e la chiusura della pinza. Vi dicevo all'inizio quando interagiamo con i robot vogliamo interagire in maniera soft quindi stiamo studiando anche tutta quella parte che si chiama soft robotics quindi sempre all'interno della human centered robotics eh si parla di soft robotics. E in questo caso quello che è molto interessante è andare a vedere come questi meccanismi che non sono più eh diciamo un insieme di eh di motori e e di parti meccaniche rigide che avevano sicuramente eh il difetto di di non essere estremamente sicure durante l'interazione ma avevano dal punto di vista ingegneristico il pregio di essere semplici da controllare. Queste mani soft o tutti anche il sesto dito che avete visto prima che è un sistema fatto di tendini e di parti eh eh diciamo morbide hanno la bellissima proprietà di poter essere di poter interagire liberamente con le persone in maniera sicura ma hanno dal punto di vista ingegneristico la la brutta eh proprietà di essere molto complicati da controllare e quindi diciamo quello che stiamo facendo noi è quello di andare a studiare tutta una serie di 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 possibili controllori per andare a eh controllare queste mani che in realtà si deformano ad esempio vedete quando vanno a contatto con l'ambiente ma ci permettono al contrario di di mani completamente rigide ci permettono di fare tutta una serie di operazioni e di interazioni con l'ambiente che prima ci erano precluse e quindi vedete qui è possibile andare a prendere la penna è possibile fare tutta una serie di operazioni che ovviamente eh con mani della vecchia generazione di mani rigide non era possibile fare quindi diciamo questo conclude un po' la carrellata sulle applicazioni della nostra della nostra del nostro laboratorio che si trova eh a Siena questa è una bellissima foto eh invernale diciamo che probabilmente adesso va cambiata che stiamo entrando che stiamo in primavera eh vi volevo dire che in realtà tutte queste cose che abbiamo visto sono una collaborazione tra noi e eh l'Istituto Italiano di Tecnologia dove io sono eh ricercatore affiliato e abbiamo questo laboratorio eh congiunto tra 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 noi e l'Istituto Italiano di Tecnologia e vi faccio qui abbiamo qui abbiamo un timelapse di quello che succede in un giorno nel nostro laboratorio che è molto interessante questo è il nostro laboratorio di Siena vedete abbiamo molti robot abbiamo anche un un bilardino che originariamente era nato per diventare un un esperimento in cui un robot giocava a bilardino e poi ha trovato invece la sua vera funzione che è quella di eh per noi di di darci cinque minuti di pausa tra un esperimento e l'altro è tratta la sua funzione quindi vedete qui ci sono molti robot vedete in basso adesso è arrivato anche Pepper eh e niente quindi questo è eh una una vista sul nostro laboratorio a Siena ok quindi io vi ringrazio questi sono tutte le persone ehm che 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 collaborano il nostro laboratorio il direttore è il professor Domenico Prattichizzo eh che ha fondato diciamo il laboratorio che lo dirige io sono uno dei eh dei tre strutturati insieme a alla professoressa Malvezzi e poi tutti gli altri che vedete qui sono eh o dottorandi o tesisti o comunque sono no qui in realtà sono solo dottorandi o ricercatori che collaborano con noi nelle nostre attività eh vi ringrazio per l'ascolto per la visione eh arrivederci eh bec 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 Grazie a tutti.